buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'amico del popolo di un secolo fa sabato primo marzo 1919 un secolo fa usciva il numero 7 dell'anno decimo dell'amico del popolo questa settimana per questa presentazione ho pensato di leggervi di darvi tre spunti mi riferisco mi riferisco in particolare all'articolo di fondo all'apertura che è dedicato al programma del neonato partito popolare italiano per quanto riguarda la scuola l'amico del popolo allora sottolineava con forza la necessità che non solo lo stato determinasse l'educazione la formazione delle persone ma che anche altri soggetti potessero in qualche modo far parte del mondo dell'istruzione c'è un un articolo abbastanza duro ve lo mostro in questo momento relativo al riposo festivo l'amico del popolo allora se la prendeva con il genio militare che praticamente costringeva in questi primi mesi appena alla fine della prima guerra mondiale costringeva gli operai a lavorare anche alla domenica e scriveva così riposo festivo il titolo mai come ora si è parlato tanto delle rivendicazioni operaie delle otto ore di lavoro di vacanza nel pomeriggio del sabato il famoso sabato inglese eppure mai come ora ci si ci toccò vedere tanti operai e operaie lavorare la domenica è uno sconcio scrive l'amico del popolo che dovrebbe cessare il riposo festivo è voluto dall'igiene dall'economia oltre che dalla religione nel volere il riposo festivo sono concordi cattolici e socialisti quanti non vogliono ridurre l'uomo a una macchina e perché il genio militare non concede ancora a tutti gli operai il riposo festivo si parla tanto di disoccupazione ebbene avanti se ne avete bisogno accrescete il numero degli operai invece di donne prendete uomini che rendono di più aggiungete qualche ora se è proprio necessario all'orario settimanale ma lasciate liberi gli operai nella domenica e passate loro il rancio lo stesso state sicuri che se il lavoro è ben diretto non cascherà il mondo se concederete il riposo festivo parroci capi di associazioni riunitevi e fate pratiche energiche con l'autorità superiore del genio per ottenere quanto richiede la legge umana e divina così hanno fatto anche i parroci delle parrocchie lungo il piave è difficile per noi oggi immaginare quale doveva essere la situazione sociale e anche così il quadro generale della situazione un secolo fa all'indomani della fine della prima guerra mondiale proprio perché facciamo fatica a immaginare anche il contesto di distruzione che c'era nelle nostre terre e la necessità anche di ripristinare infrastrutture importanti il genio militare evidentemente era in pieno lavoro anche la domenica e l'amico del popolo preoccupato da sempre anche delle implicazioni sociali voleva che si aprisse un ragionamento su questo su questo tema a proposito di guerra e di memorie della guerra prima appena finita vi volevo leggere dall'ultima pagina dell'amico del popolo cioè dalla quarta pagina ovvero dall'ultimo risvolto del foglio ripiegato che erano i giornali allora questa testimonianza che è così una cosa anche di un qualche interesse letterario perché si tratta di una poesia una poesia riferita ai tempi della guerra e con questo per questa settimana chiuderò solo con questo spunto così insomma che ci riporta un po alla situazione di allora il rientra viene fatta rientrare nelle cronache che arrivano dalle dalle vallate in particolare dal feltrino e si riferisce al territorio di pedavena ve la leggo un giorno di agosto dell'anno passato 1918 quando la terribile carestia causata dalle requisizioni della scusate dell'insaziabile ingordigia ebraico austriaca incominciava a mietere le sue vittime incontro il nostro vittore zanella bravo maestro di musica e quantunque avanzato in età sempre lepido arguto e come va maestro sempre pedo perché ne manca la polenta povera gente possibile che proprio debbe durare tanto a lungo così e questo maestro risponde e il varde e il varde qua ho finito adesso sti pochi versi che bisognerà e mandargli al comando supremo austriaco vediamo mi porte la mi porge la carta e leggo e qui comincia il componimento che come vedremo sono sestine di ottonari con rime con lo schema a b a b c c e dice così bertoldo morì da aspriduoi per non poter mangiare fasioi la polenta e adesso perché se muore d'ogni sesso e d'ogni età di e notta tutte l'ore l'è una brutta verità ma la vita casca lenta perché manca la polenta chi che vien da gomitar chi se svoda per dadrio o se taca mors don far olta via e va con dio e per sempre si indormenta per non aver mangià polenta erbe sempre qua se magna a merenda e a disnar e la è una gran cuccagna con le sgodi a parzenar ma quel cibo non sostenta per nutrir che vuol polenta osservè quei che lavora i lavora astraca astraca noi resiste più di un'ora da stanchezza e dalla fiacca che che vien la sono lenta per non aver mangià polenta poverde quei che cammina i se vede ad ondolar le sue gambe le strassina e noi polpi camminare che bisogna che i se senta per non aver cerca polenta non se sente più a cantarla e morta l'allegria l'è ben altro da pensare e che fa malinconia che l'è quella che se stenta erna fetta di polenta i negozi i seradi o starie pino genè i tutti i desperadi che parli con chi vole tutti quanti se lamenta che che manca la polenta dretto storti ciacolea ma non è nessun che seppe genè ben che ha l'idea che sia ora che la grepe e la denta sarie contenta che venisse la polenta finirà sì questi affanni tant non i api da durare penserà anche italiani a vennerla a liberar questa terra che i redenta e portarne la polenta il commento dell'amico del popolo è questo bravo ma il varde maestro d'esconderli sti versi che non vuoi chi lo mande a maltausen ecco una cosa così di colore ma di grande amarezza al pensiero di quanto le nostre popolazioni hanno sofferto in questa prima guerra mondiale e il componimento si riferiva come detto all'anno 1918 così lontano e così vicino a noi visto che possiamo leggerne ancora direttamente dai fogli stampati dell'amico del popolo queste questi sprazzi questi spiragli che ci illuminano un po sul passato di un secolo fa grazie per averci seguito alla prossima settimana ciao a tutti